È accaduto semplicemente che è mancato il rispetto istituzionale verso una minoranza. La maggioranza pensa di avere sempre ragione e ha il dono della verità addosso. Fatto sta che abbiamo ricevuto il lunedì pomeriggio, il giorno precedente del Consiglio, una giunta all'ordine del giorno di due punti all'ordine del giorno. Io ho chiesto immediatamente tramite la posta certificata gli atti che ci fossero messi a disposizione di documenti per discutere e poter capire cosa succedeva. Questi documenti ci sono stati messi a disposizione il giorno dopo, mezz'ora prima del Consiglio, alle 16.30 e alle 17 iniziava il Consiglio. 55 pagine l'uno, 15 pagine l'altro regolamento. Non eravamo in grado di poter dare un giudizio, nonché nel Consiglio Comunale abbiamo chiesto il rinvio del punti all'ordine del giorno, di quelli specifici, una volta discusse gli altri argomenti. Quegli argomenti la maggioranza ha votato e ha votato per discutere, noi non possiamo discutere di qualcosa che non ha urgenza, non c'era nessun tipo di urgenza da questo punto di vista. Quindi tant'è che faremo una comunicazione anche al Prefetto. Noi non abbiamo, è una versione di metodo, non è una versione di merito. Se noi ci fossimo stati coinvolti prima da questo punto di vista, cioè è una mancanza di rispetto, coinvolti alle 4.30, mezz'ora prima del Consiglio. Noi abbiamo chiesto il rinvio di questa roba, loro hanno detto di no. Perché c'è un atteggiamento di protervi e di arroganza che fa paura in questo Consiglio Comunale. Cioè veramente sono supponenti, sono bravi solo loro da questo punto di vista. Il Consiglio Comunale roba loro, gli appartiene a loro, guai a chi glielo tocca. Hanno preso il 43% alla fine, non hanno preso l'80% dei voti. Quindi anche le minoranze hanno il diritto di avere voce in capitolo. Quindi questa è stata la nostra posizione. Siamo usciti come atto di protesta. Loro ci hanno accusato di essere maleducati. Maleducati sono stati loro che non hanno tenuto conto delle nostre osservazioni. E sono andate a diritto, nonostante non si fosse chiesto, il rinvio dei due punti all'ordine del giorno. Quindi cosa chiede la lista civica? E che chiediamo? Chiediamo che ci sia un ripristino delle funzioni democratiche a Calcinaia. Perché con gli attacchi che sono stati fatti anche dopo il Consiglio da parte dell'assessore stessa che ha ammesso che ha sbagliato, l'ha detto nella registrazione del Consiglio, ha detto che ha sbagliato, che sono stati sbagliati le registrazioni. Tant'è che il 25 novembre Lancia aveva mandato una lettera in cui si poteva procedere in questa direzione di approvazione dei regolamenti. Perché si fa dopo un mese oltre e il giorno prima del Consiglio Comunale? Che senso ha? Perché tanto il Consiglio Comunale non si vuole fare delle belle statuine in Consiglio Comunale. Non si vuole partecipare alla discussione democratica e all'elaborazione. Se vogliono che ci siano delle belle statuine devono trovare altra gente. Non lo faremo. Noi siamo stati eletti da cittadini per portare la voce dei cittadini. Questo è l'elemento fondamentale.